Continua l'attività dell'Associazione Leonardo da Vinci, infatti si è tenuto nel pomeriggio del 7 settembre al Museo e Giardini di Pitagora a Corotone il secondo appuntamento della Settimana della Cultura, il Laboratorio d'Arte per i più piccoli, 30 iscrizioni di bambini dai 6 ai 12 anni che hanno goduto di due ore di lezione ludico-didattiche tenute dall'artista e docente d'arte Mariangela Parisi che collabora da anni con l'Associazione Leonardo da Vinci APS, un nuovo progetto dell'Associazione che si affaccia ai più piccoli che, curiosi e gioiosi, hanno dipinto tele e forme di ceramica prodotte a mano dal maestro artigiano Emanuel Vizzacchero che hanno portato con sé a casa come ricordo di questa bellissima esperienza, un momento in cui hanno potuto esprimere la loro creatività con il materiale messo a disposizione dall'Associazione. Ricordiamo che questo appuntamento, come quelli dell'8 e 9 settembre, sempre a Parco Pignera, sono stati finanziati dal Comune di Corotone.